Musica Bella a tutti ragazzi dal vostro Alembeni86 Eccoci qui con un nuovo video Siamo su PES 2019 con la demo Oggi andiamo a parlare di tutorial Bug Come andare a giocare La partita amichevole contro l'amico 100% nel matchmaking Allora I passaggi che dovremmo fare sono questi Esibizione Confermiamo con la X Quadrato Modifica dati personali Schiacciamo quadrato Andremo ad impostare Per esempio Passaggi assistiti di livello 3 Il vostro amico Il vostro amico che dovrà essere in parti con voi Vi dovrete mettere d'accordo E anche lui Su passaggi assistiti Dovrà mettere livello 3 Identico a voi Poi Dopodiché Cosa si fa? Si esce Si fa partita veloce Partita veloce Partita veloce Una volta che siete qui Ognuno può scegliere la squadra che vuole Indipendentemente Indipendentemente Allora Per esempio Facciamo Io voglio usare il Barcellona Il mio amico vuole usare l'Inter Ovviamente siamo in parti Io seleziono Barcellona Allora Seguite bene qui Restrizioni sulla connessione di rete Voi avete livello 3 Lui deve avere livello 3 Passaggi assistiti Noi abbiamo messo di livello 3 Lui ha messo di livello 3 Quindi alla voce qui Non deve essere senza limitazioni In matchmaking Ma bensì utente pari livello Sia per voi Sia per lui Dal momento che è tutto selezionato Impostato nei modi uguali Sia a voi che a lui Andate su Vai matchmaking Essendo nel party E quindi con le cuffie E ognuno sente la propria voce Dell'altro amico Fate 1 2 3 Vai E schiacciate X Contemporaneamente Su Vai a matchmaking Entrato nella schermata Matchmaking Si attiverà il bug ragazzi Si attiverà il bug Dopo una decina di secondi 20 secondi 99 su 100 Voi andrete a giocare con l'amico Perché io fino adesso Ho fatto così Adesso annullo Che io non voglio andare a giocare Le partite che fino adesso Che gioco 99 su 100 Voi andrete a fregare Konami E andrete a giocare La demo di prova Con l'amico Quindi praticamente diventa Come creare una stanza amichevole Diventerebbe come creare Una stanza amichevole Io l'ho fatto con Angelo Bove Con un mio amico Che ovviamente Lui a sua volta Stamattina l'ha fatto Con il mio socio Criminal7Gamer Giancarlo Zaccariga Sono riusciti a fare Due partite di fila loro Poi altri due miei amici Gabri Di Salvo e Carletto Sono riusciti a fare Anche loro 5-6 partite Io oggi Oggi Prima di questo video tutorial L'ho fatto 5-6 partite di fila Con questo mio amico Voi provate il metodo E vedrete che Inculate Konami E andrete a giocare Le a demo di prova In attesa del gioco definitivo Con un vostro amico Buon divertimento ragazzuoli Se vi è piaciuto il video Lasciate un like Iscrivetevi al canale A quello mio A quello del mio socio Criminal7Gamer Un saluto a tutti Dal vostro Alevegno86 Ci vediamo alla prossima Con un nuovo video